Il lamento, la forza di Maria, raccontati sabato in prima serata, ma vissuti in prima persona da una grande attrice, ma soprattutto da una grande signora, Daniela Poggi, perché quello sei per noi, fiediti. Daniela, prima di arrivare a questa cosa bellissima, che io dico bussa al tuo cuore, perché secondo me non è che sei tu che sia arrivata alla Madonna, ma forse Maria a un certo punto ti ha interrogato, dobbiamo raccontare di questa presenza che fa parte della tua vita, fa parte già da quando c'era mamma, se non mi sbaglio, è vero? Sì, 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 con la mia mamma ho vissuto delle esperienze meravigliose, perché lei mi ha sempre raccontato di essere stata una miracolata a Lourdes, quando a Pesero il Duce la Petacci a testa in giù, a Piazzale Loreto a Milano, lei era con i suoi fratelli e solo che loro erano indietro, lei era davanti, a un certo punto un camion di partigiani l'ha investita e lei è rimasta parecchi mesi, completamente paralizzata dalla vita in giù, dopodiché è stata portata con un treno, il treno bianco, famoso bianco a Lourdes, è stata immersa nella vasca miracolosa dell'acqua della Vergine Maria e da lì lei si è alzata con le sue gambe. Io devo dire che non ci sono mai andata a Lourdes fino al 2000-2001, adesso non ricordo precisamente quando, perché ho detto devo andarci con mia mamma prima che sia troppo tardi e quindi ho fatto questa esperienza meravigliosa a Lourdes. Quando arrivi là, Daniela, con gli occhi di una donna di spettacolo, con una donna che ha interpretato Mirri e Luori, ma ieri una figlia, che cosa ti resta di Lourdes, cosa comprendi anche della vicinanza di Maria da quella grotta? Beh, mi è rimasto intanto il sorriso di tutti i malati, di tutti coloro che sicuramente stavano molto peggio di me e che invece in quel momento mi hanno dato una straordinaria forza perché era la comunità, era l'unione di tutti coloro che insieme si viveva non soltanto una speranza di chiedere una grazia, ma quasi di ringraziare della propria esistenza e allora lì ho capito che a volte la nostra preghiera è ti prego Signora aiutami, ti prego Maria aiutami, no? Spesso volentieri invece non siamo capaci di pregare per ringraziare comunque di quello che abbiamo, della nostra vita, della nostra esistenza e anche di tutto quel mondo meraviglioso che ci circonda. E io ho vissuto questa esperienza meravigliosa con mia mamma perché già era dentro l'Alzheimer e quindi erano gli ultimi periodi in cui lei ancora riusciva a essere abbastanza lucida, dopodiché è stato un lento declino. Però la Madonna per me, che io la chiamo Madonnina, è sempre stata una mia compagna di viaggio. Tant'è vero che pensa che all'angolo della strada di dove abito io c'è una nicchia su una palazzina con la Madonnina che è sempre illuminata. Ogni tanto la lampadina si spegne e allora io camminando, perché faccio sempre il giro con il cane notturno, no con il cane notturno, il giro notturno con il cane, ho un po' sposto. Ti arrivate a capire benissimo. Allora mi volto sempre, faccio una piccola preghiera a lei, la saluto, la ringrazio, dico guarda mi raccomando ti prego, benedici questo quartiere, benedici noi, benedici me, aiutati, dico no, ti hanno spento la luce, ti hanno spento la luce, no bisogna andare subito a rimetterti la luce. Senti Daniela, è una presenza, come dire, molto anche, è una presenza intima nella tua vita, non è qualcosa di distante a cui andare, te la senti accanto, da come lo racconti ed è una presenza che ti ha avvicinato anche poi, tantissimo alla fede, tu di momenti belli anche per il tuo mistero ne hai avuti, l'incontro con Giovanni Paolo II, me lo racconti? Sì, a me è stato bellissimo perché nel giubileo del, cos'era, 2001? Mila. 2000, esatto, ah ecco bellissima, bellissima davvero, sì, in questo incontro, beh insomma fu molto commovente perché io ero una delle artiste che riuscirono a leggere qualche frase e poi abbiamo, siamo andati da lui, incredibilmente pensa alla mia stupidaggine, io in quel momento gli ho detto che Dio la benedica. Ma la chiami stupidaggine? Un Papa oggi. Ma come è il Papa? Un Papa oggi che chiede preghiere, l'hai fatto esattamente tu con Giovanni Paolo II. Sì, è stato bellissimo, questa carezza me la porto nel cuore e la porto proprio come una benedizione continua. Senti Daniela, ci sono donne come te che anche nell'ambiente, lo spettacolo poi, hai bisogno di protezione, però di cocco, non ti capisco, eh tesoro? Io mi, 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 io sento quasi un po'. No, che non voglio commuovermi perché è un rimel che si scioglie subito. Non volevo metterti in difficoltà, ma tu sei una donna vera. Pensate, questa donna che ha avuto anche questa conoscenza di Maria, a un certo punto Maria interroga quasi con occhi diversi e pensa alle sue di lacrime, a quelle di Maria. Prendiamoci un minuto di pubblicità, così te ti riprendi e poi vengo a te Maria. E' lo spettacolo che ci regala questa interpreta esteraordinaria, che anche ha scritto questo spettacolo. Pubblicità, un minutino, un minutino. Sciu sciu, via, facciamo presto. La grande Daniela Poggi è un'innamorata di Maria e porta in giro uno spettacolo bellissimo che si chiama Vengo a te Maria, anche nelle parrocchie tra l'altro, di questo ti ringraziamo. Daniela, uno spettacolo scritto da te che nasce da un momento particolare. Eravamo in Quaresima, credo via Crucis di un paio di anni fa. Esattamente, era l'ultima giornata della Passione di Cristo, prima della Pasqua. Venerdì santo proprio. Esatto, e durante la Passione io ho avuto veramente un momento in cui mi sono posta questa domanda, ho detto, ma stiamo pensando tutti a Gesù, ma il dolore di Maria, ma il dolore di questa madre che si vede uccidere il figlio in questo modo, che lo vede perdersi così tra la folla indegna della sua presenza, del suo nome, ho pensato veramente, ho detto madonna mia, ma quanto può essere stato doloroso questa visione che lei ha avuto e nessuno parla di lei, nessuno parla di questo dolore viscerale, perché qualcuno che ti nasce nella pancia e poi ti viene strappato così. Allora ho detto, ma io devo fare qualcosa su Maria, devo fare qualcosa su Maria. Dopodiché, per la prima volta, è unica volta, non l'ho mai più risentita, durante l'Eucarestia, cantano. Io vorrei tanto sapere da te, di quel figlio che amavi. Io in quel momento comincio a piangere come una pazza. Vado all'Eucarestia, torno veramente, ero sconvolta dalla disperazione. Passa un periodo, mi chiama Don Luigi Trapelli, con il quale noi facciamo un bellissimo viaggio di arte nella fede e la fede nell'arte, un percorso artistico e Don Luigi mi dice, senti Daniela, mi stanno chiedendo qualcosa su Maria, ma hai qualcosa su Maria? Ho detto, no, io non ho niente su Maria, non ho scritto nulla. Dammi 48 ore, ti preparo qualche cosa. Ho cominciato a leggere un sacco di testi su Maria. Hai saccheggiavo Don Tonino Bello, Enri De Luca. Carlo Carretto, Enri De Luca e chiaramente Alda Merini. E ho messo insieme, ho fatto un collage, ho scritto la prima piccolissima parte, poi è intervenuto Carlo Carretto, poi ho preso la poesia di Alda Merini, poi una cosa di Don Tonino Bello, poi di nuovo Alda Merini. C'è tutto un percorso e è venuto fuori. Daniela, tu ci fai l'onore poi di recitarci, no, per me è un onore. A che donna hai pensato? Chi è la tua Maria raccontata in vengo a te? La mia Maria è una donna, è una bambina, una bambina di 13 anni alla quale appare l'angelo, appare il Signore ed è una donna che ha saputo credere subito, non si è lasciata intimorire, anzi quella paura l'ha presa con sé, l'ha tenuta come una forza, come un dono prezioso del quale però non aveva coscienza in quel momento, ma lei si è affidata totalmente a questo amore di nostro Signore. Allora è questo che io chiedo sempre alla Vergine Maria, aiutami a credere senza troppe domande, senza troppe spiegazioni, senza troppo raziocinio, fammi essere bambina in questa fede. Daniela, la vita di un artista come te cambia se uno c'ha dentro o no Dio? Non lo so, questo dovresti chiederlo a chi non ce l'ha Dio dentro, io ce l'ho e quindi sicuramente mi dà la forza per combattere, per lottare, per accettare, per bussare alle porte, per ricevere a volte i no, tanti no, tante umiliazioni, tante frustrazioni, mi aiuta a non scivolare nell'oblio, a non scivolare nella depressione, cioè un'anticchia va bene, poi dico no, 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 perché comunque il Signore mi aiuterà, mi darà la forza, è chiaro che per me è un valore aggiunto, è una forza, per gli altri non lo so, tanti a volte mi dicono eh ma tu sei fortunata perché tu credi, perché tu hai fede e allora non devi, non ti devi abbattere, tu sei più forte perché hai la fede, io dico sì, io ho la fede, però anche il Signore vuole che io mi dia da fare e quindi. Grazie per la sincerità. Daniela? Non possiamo, diciamo che lui ci aiuta, ci supporta proprio laddove poi noi mettiamo tutta la nostra volontà per fare del bene, per fare la scelta giusta, no? E soprattutto forse per dire dei no, a volte siamo tra virgolette costretti a dire noi, se non sono in linea con quello in cui crediamo. Guarda, questo è un tema molto molto interessante sul quale si potrebbe veramente fare un'intera mattinata perché io spesso sento, perché mi arrivano come dire dei campanelli, ma però vai da quella parte, fai questo, buttati, soprattutto in questo momento dei sociali, 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 no? Che ti porterebbero a esporti anche laddove non è il caso di esporsi e allora dico, no ma questo sei tu, diavolo? Nooo! E non mi freghi, no, 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 no. Daniela abbiamo detto che io a te sei un'artista, che tutti conosciamo, sei una signora molto per bene. E ti posso dire una cosa, te lo dico personalmente, credo che tu sia perfettamente degna di dire vengo a te Maria. E credibile. In questa voce bellissima che ci offre, la c'è leggi io. Io mi metto al posto tuo, se mi permetti, perché è il più comodo. Assolutamente. Questa è Daniela Poggi. Vengo a te, Maria. Vengo a te, Maria. Con tutta la mia fragilità, le mie paure, i miei dubbi. Temo di non farcela. Ma sento debole. E il tuo esempio di donna, di madre, di moglie, mi acceca il cuore. Chi sei, Maria? Come sei riuscita a credere senza temere? Eri solo una bambina. Raccontami, ti prego. Sì, Maria, nella fede, ebbe il coraggio di confidare nel Dio degli impossibili e di lasciare a lui la soluzione dei suoi problemi. La sua. Era pura fede. Se tu sei la mia mano, il mio dito, la mia voce. Se tu sei il vento che mi scompiglia i capelli. Se tu sei la mia adolescenza, io ho il diritto di servirti. E il dovere. Perché l'adolescenza non ha mai chiesto nulla alle sue stagioni. Tu mi hai presa perché io non ero una donna, ma solo una bambina. E le bambine si accolgono e si avvolgono di mistero. Tu mi hai resa donna, Signore. E la donna è soltanto un pugno di dolore. Ma questo pugno io non lo batterò verso il mio petto. Io lo allargerò verso di te come una mano. Chiede misericordia. Tu sei la mia mano, Signore. Tu sei la vita. E quando una donna partorisce un figlio, la disgrazia e l'amore che abitano in lei come il dubbio della sua esistenza. Tu mi hai redenta nella mia carne e sarò eternamente giovane e sarò eternamente madre. E poiché mi hai redenta, posi vicino a te la pietra della tua resurrezione. Non recitavi. Questa è una cosa che mi viene dal cuore. Bellissimo. Vengo a te Maria. Grazie Alda Merini che ha scritto delle parole meravigliose, dei testi meravigliosi. E riuscire a mettere tutta questa poesia e a regalarla a noi. Questa è la tua arte, Daniela Poggi. Grazie. Perché porti Dio dentro. Grazie di essere stati con noi. Vengo a te Maria, Daniela Poggi. Grazie. Monica Di Loretto. Grazie. Sei una gran signora. Sottoprendi.